Prima di tutti, su Svecquati! Viene chiamato elettrone italiano Luca! 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 Luca Luca Aris Luca Luca Aris Luca Luca Aris Accompagnerà il Conobis Nella stanza del pub Mauro Alfa A.K.A. Maurizio Alfa E la Sierra Un ringraziamento anche alla ragazza di Mauro Alfa La voce da questo momento Arrivano le visioni di Mauro Rau, Rau, Rau 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 B.A.T.U.E.P.R. A.K.A. E' un'epa Si Mi E' un'epa Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie per la visione!